La smart mastoplastica è una tecnica che ho messo a punto assieme alla mia equipe nota con il nome di chirurgia della bellezza proprio perché abbiamo cercato fondamentalmente di ottimizzare quelli che sono i risultati nell'intervento più richiesto al mondo. Sappiamo tutti che l'aumento del volume del seno riguarda praticamente l'80% delle donne comprese tra i 20 e i 50 anni. Il problema principale è che oggigiorno la maggior parte delle donne che si sottopongono a questo tipo di intervento sono delle professioniste in carriera che quindi spesso non possono permettersi dei giorni liberi da malattia, non possono permettersi di rimanere a casa. Proprio per questo abbiamo studiato questa tecnica che permette in soli 30 minuti di inserire delle protesi sottomuscolari a livello mammario e di garantire quindi dei risultati naturali e predicibili nel tempo. L'utilizzo di protesi garantite a vita permette di non dover già pianificare un intervento a distanza di 8-10 anni ma semplicemente un controllo annuale ecografico e assieme al chirurgo da cui si è stati operati. Altra cosa molto importante è che l'accesso diretto lungo il solco sottomammario in una loggia direttamente sottomuscolare preserva integralmente la funzionalità della ghiandola mammaria. Esistono diversi approcci per introdurre una protesi al di sotto del muscolo pettorale ma ad ogni modo l'unico che garantisce di non toccare la ghiandola mammaria e quindi di non indurre un processo di riparazione postchirurgico è appunto l'accesso sottomammario. A differenza della classica dual plane, ovvero l'interruzione a metà di quello che è il muscolo gran pettorale, nella smart mastoplastica andiamo a inserire la protesi direttamente in una loggia praticamente tutta sottomuscolare. Però per evitare quelle che sono delle complicanze spesso legate all'approccio sottomuscolare, ovvero le cosiddette animazioni dinamiche, ovvero che la protesi possa muoversi in seguito alla contrazione del muscolo pettorale, eseguiamo anche quello che è uno split verticale del muscolo, questo per garantire sempre risultati estremamente naturali e duraturi nel tempo.